Dottoressa Rosato, io come consigliera con delega alle pari opportunità e tu come consigliera di parità della provincia, il nostro è un ruolo che forse non è molto conosciuto, vuoi darci una piccola pillola anche per divulgare alle persone per sapere questo specifico servizio che io e te stiamo svolgendo? Certo, certo Dottoressa Ghiotti, allora sicuramente, entrambi abbiamo il ruolo sicuramente di sensibilizzare su quello che è la parità di genere, quindi cercare di educare le giovani generazioni ma anche di in un certo senso superare tutti quegli stereotipi e quei retaggi riguardo proprio la parità di genere, quindi la sensibilizzazione è la cosa più importante e io come pubblico ufficiale sostengo costantemente lavoratrice e lavoratore che sono vittime di discriminazione e io come consigliera con delega sono felice di farti da spalla e di divulgare presso anche gli altri enti e presso le associazioni questa importantissima cosa che è la diffusione della cultura delle pari opportunità quindi donne con la D maiuscola donne con la D maiuscola